Sono arrivati e hanno preso il giornalista. Lo hanno portato via e poi hanno evacuato i passeggeri. Una delle 171 persone che erano a bordo di un volo Ryanair partito domenica da Atene e diretto a Vilnius in Lituania ha raccontato così quello che è successo quando l'aereo era in territorio bielorusso. Una vicenda che sembra un fin d'azione poco credibile. E invece è avvenuta davvero, con l'atterraggio forzato a Minsk e l'arresto di Roman Portasevich, 26 anni, oppositore del dittatore Alexander Lukashenko. Simone Sabattini e Leonard Berberi delle redazioni esteri e cronache ci spiegheranno chi sono i protagonisti di questa vicenda e come sia possibile che a un normale volo di linea accada qualcosa del genere. Massimo Gaggi, editorialista del Corriere con base a New York, in questi giorni invece è a Minneapolis e nella seconda parte dell'episodio ci racconterà del livello di tensione in città a un anno esatto dall'uccisione di George Floyd da parte del poliziotto Derek Chauvin. Io sono Tommaso Pellizzari e questo è Corriere Daily di martedì 25 maggio, il podcast quotidiano che racconta persone, storie e luoghi con le parole dei giornalisti del Corriere della Sera. Simone Sabattini, che cosa è successo domenica mattina nei cieli bielorussi? È successo che poco dopo le 11, a bordo del volo Atene-Vilnius di Ryanair, è arrivato un allarme bomba direttamente dalla torre di controllo di Minsk, la capitale bielorussa. A quel punto il comandante del Boeing 737 aveva di fatto davanti due strade, o atterrare alla destinazione del volo, cioè la capitale lituana, che era l'aeroporto più vicino, oppure girare verso la stessa Minsk. Però diciamo che questo dubbio è stato eliminato quando lo stesso dittatore bielorusso Alexander Lukashenko ha fatto alzare in aria un MiG-29, cioè un caccia militare, per convincere il Ryanair a fare rotta su Minsk. All'arrivo, due passeggeri di quel volo, il giornalista dissidente Roman Protasievich e la sua fidanzata Sofia Sapega, una studentessa, sono stati fermati dalle autorità e detenuti. Tutti gli altri passeggeri sono ripartiti sette ore dopo quell'atterraggio. Tutti tranne sei, però, ed è molto probabile che quei sei siano agenti del KGB. I servizi segreti che in Bielorussia, a differenza della Russia, dopo il crollo dell'Unione Sovietica, non hanno mai cambiato nome. Il riassunto di molti leader mondiali di quello che è accaduto è composto da tre parole. Pirateria di Stato. Siamo molto stanchi. Siamo stati a bordo otto ore e non avevamo alcuna informazione su cosa stesse accadendo, solo quello che c'era su internet, dice quest'altro passeggero del volo Ryanair. Leonard Berberi, tu ti occupi di tutto ciò che riguarda il trasporto aereo. Ci spieghi quali sono i meccanismi che si attivano in situazioni come quella accaduta domenica? Quando il Boeing 737 di Ryanair è entrato nello spazio aereo della Bielorussia, sostanzialmente l'autorità responsabile per quel pezzetto di volo, fino alla consegna, alle autorità del trasporto aereo della Lituania, sono quelli della torre di controllo di Minsk, dello spazio aereo ma anche degli aeroporti che ci sono in Bielorussia. Nel momento in cui arriva, come hanno sostenuto le autorità bielorusse, un allarme bomba, un possibile allarme bomba a bordo di quel volo, la prima informazione che viene mandata ai piloti del volo Ryanair è stata proprio quella. Abbiamo ricevuto un'indicazione, una possibile minaccia terroristica o di altra natura, ma che comunque indica la presenza eventuale di esplosivo a bordo. In questo caso, diciamo, l'indicazione che viene data in tutto il mondo è di atterrare il prima possibile, quindi, nell'aeroporto più vicino possibile, che può essere un aeroporto civile oppure un aeroporto militare. In quel momento il Boeing 737 di Ryanair era a circa 30 km dalla frontiera lituana e a 160 km dall'aeroporto di Minsk. Altri 73 km invece poteva arrivare tranquillamente a destinazione a Vilnius. E invece a quel punto che cosa è successo? In contemporanea all'invio di questo segnale di allarme, l'aeroporto Boeing 737 di Ryanair è stato affiancato anche da un intercettore militare, un MiG-29. Nel momento in cui c'è anche una presenza militare, l'indicazione, il buonsenso e magari anche la strada più consigliata sarebbe quella di seguire l'intercettore che poi accompagna mano a mano verso l'aeroporto per l'atterraggio di emergenza. In questo caso però essendo in Bielorussia l'intercettore era bielorusso e quindi bisognava stare all'interno dei confini della Bielorussia. Il comandante di Ryanair poteva, con un atto di forza, perché è l'ultimo responsabile della sicurezza di quel volo, poteva decidere di proseguire tranquillamente verso la Lituania. Ma è altrettanto vero che non sapendo bene, non conoscendo bene la natura della minaccia che era stata comunicata dall'attore di controllo di Minsk, allora a quel punto la prudenza ha suggerito di seguire l'intercettore e atterrare a Minsk. Evidentemente i comandanti di Ryanair non sapevano che a bordo c'era una persona che interessava particolarmente a Minsk e che stava viaggiando con la sua fidanzata. Ma quindi, se non fosse stato affiancato dall'aereo militare bielorusso, il Boeing sarebbe atterrato in Lituania, cioè nella sua reale destinazione, anche in presenza della minaccia annunciata dalla torre di controllo bielorussa? Il capitano aveva due opzioni in quel momento, o atterrare in un aeroporto militare della Bielorussia, oppure proseguire ancora per Vilnius. Di fatto ci avrebbe messo una ventina di minuti, 25 minuti al massimo per atterrare all'aeroporto di Vilnius, mentre l'aeroporto militare distava a circa 5-7 minuti. E' evidente che, trattandosi di una compagnia aerea dell'Unione Europea, che stava collegando in quel momento due città dell'Unione Europea, conveniva, e in buon senso avrebbe forse suggerito al comandante, di proseguire dritto verso Vilnius e poi lì, appunto, atterrare in sicurezza, far controllare e ispezionare l'aereo. Nel momento in cui c'è un aereo militare di un paese terzo, che non è neanche dell'Unione Europea, i margini di manovra sono proprio pochissimi. Certo, poteva eventualmente il comandante tergiversare, perdere tempo, costringere l'intercettore bielorusso ad avvicinarsi alla frontiera con la Lituania, magari scambiandosi anche un paio di parole, giusto per capire che cosa stava succedendo, per poi entrare nello spazio aereo lituano e quindi disfarsi dell'intercettore bielorusso. Questa cosa non è avvenuta, cerchiamo anche di capire però che è facile parlarne dal di fuori, non avendo seguito e non essendoci stati a bordo di quell'aereo, ma è evidente che il comandante e il primo ufficiale avevano una grossissima responsabilità, cioè che era quello di portare il prima possibile in salvo i 171 passeggeri a bordo. In molti hanno notato che nel primo comunicato di Ryanair sembrava che la principale preoccupazione della compagnia aerea fosse il ritardo del volo più che la sicurezza dei propri passeggeri, solo che la semplice presa d'atto della deviazione della rotta era arrivata quando già si sapeva che cos'era successo. 24 ore dopo, Ryanair ha emesso un nuovo comunicato di tono completamente diverso in cui ha accusato la Bielorussia di pirateria aerea e poco prima, parlando a una radio britannica, lo stesso amministratore delegato di Ryanair, Michael O'Leary, aveva definito il tutto un dirottamento sponsorizzato dallo Stato. Che cosa è successo in queste 24 ore? Beh, bisogna tornare al momento in cui il comunicato stampa e la nota stampa di Ryanair sono state diramate alle agenzie e anche alle testate internazionali. Erano all'incirca le 17.25, ora italiana, l'aereo, il Boeing 737 era ancora fermo a Minsk. Per una questione puramente di opportunità e anche di rapporti con l'autorità locale che in quel momento aveva, tra virgolette, in nostaggio un aereo con 171 passeggeri, più assistenti di volo e i piloti, Ryanair ha deciso di uscire con quel tipo di comunicato, che è un comunicato molto blando in cui conferma sostanzialmente quello che era successo. E soltanto dopo, una volta che l'aereo è riuscito a decollare, ed è decollato, diciamo due ore dopo quel comunicato stampa, soltanto dopo Ryanair ha potuto parlare un po' più liberamente off the record con i giornalisti, spiegando che in effetti si è trattato di un gesto molto estremo al limite della pilateria aerea. Poi, in mattinata, il giorno dopo, O'Liri, diciamo, ha tolto via, ha spazzato via ogni diplomazia. Però, in quel momento, nel momento del primo comunicato, c'erano più di 170 persone che si trovavano a Minsk e l'obiettivo primario di Ryanair era portare fuori l'aereo così come portare fuori anche quelle persone. Simone Sabattini, perché è accaduto tutto questo? Chi è Roman Portasevich, cioè l'uomo che è stato arrestato? A sentire il governo bielorusso si è trattato di una semplice, diciamo così, operazione di sicurezza causata dall'allarme bomba che era arrivato a loro. Però, naturalmente, si tratta di una versione estremamente dubbia. Ora, bisogna ricordare che Alexander Lukashenko è definito l'ultimo dittatore d'Europa. È al potere dal 94 e, nell'agosto del 2020, disse di avere stravinto delle elezioni in realtà contestatissime che hanno portato a enormi manifestazioni di piazza, a una repressione brutale, a centinaia di arresti, pestaggi e intimidazioni. La sua avversaria, Svetlana Tikhanovskaya, è la moglie di un dissidente incarcerato dal regime e ha sostenuto la propria vittoria, ha denunciato i brogli e alla fine è stata costretta all'esilio in Lituania, assieme a moltissimi altri dissidenti. Tra questi c'è Roman Protasevich, che ha 26 anni, è un giornalista fondatore del canale Telegram Nexta ed è uno dei più temuti oppositori del regime, visto che nel paese la censura è radicale e qualsiasi libertà dei media è automaticamente derubricata a minaccia politica e sociale. Protasevich, che ora stava lavorando per un altro canale Telegram Bella Mova, aveva lasciato il paese ancora prima di Tikhanovskaya nel 2019 ed era scappato con i genitori prima in Polonia per poi trasferirsi anche lui in Lituania. Quanto pesano questi strumenti di opposizione di cui parlavi e che si trovano su social network Telegram? Nexta è di fatto il principale strumento di informazione indipendente del popolo bielorusso e non solo. Ora conta circa 2 milioni di follower. Anche Bella Mova ha centinaia di migliaia di seguaci. Protasevich ne ha rilevato la guida dopo che il suo fondatore Igor Lozik è stato anche lui arrestato. Ora, bisogna ricordare che quel volo quello da cui è stato fatto scendere partiva da Atene dove si trova in questo momento la stessa Tikhanovskaya. I due si erano appena visti nella capitale greca per un convegno e quello è un volo preso in precedenza dalla stessa leader dell'opposizione. Insomma, i segnali sono chiari. Perché Lukashenko si è spinto fino a un'operazione tanto plateale da spostare di nuovo l'interesse di tutto il mondo sulla situazione in Bielorussia? Protasevich è così pericoloso per il regime? Dunque, partiamo dalla seconda questione. Protasevich è poco più che un ragazzo, è vero, ma assieme a Stepan Svetlov è stato, come dicevamo prima, il creatore di un mezzo di informazione che ha creato problemi enormi al regime. Nexta ha, nel corso dei mesi, dato prima e dopo le elezioni, informazioni di ogni genere e soprattutto è diventato uno strumento usato in piazza da migliaia di manifestanti per evitare gli assalti della polizia di Lukashenko per organizzarsi, per trovare spazi di manifestazione del dissenso. Era nato come canale su YouTube ma poi è diventato un canale Telegram perché questa app creata da esuli russi è nel tempo diventata lo strumento migliore delle proteste contro le dittature dal momento che nasconde la sorgente del proprio traffico. Siamo giornalisti, ha detto mesi fa Protasevich, ma dobbiamo essere anche altro perché non è rimasto nessuno nel paese. Tutti i leader dell'opposizione sono o all'estero o in carcere. A marzo scorso Roman ha detto di non lavorare per Tikhanovskaya e per l'opposizione ma naturalmente ha messo i contatti con lei costanti. Fatto sta che Nexta per la leadership bielorussia è una organizzazione terroristica e Protasevich era ricercato sostanzialmente per sovversione e istigazione all'odio e al disordine sociale. Ora ufficialmente rischia fino a 15 anni di carcere ma secondo alcuni potrebbe arrivare addirittura ad essere condannato a morte. Molti passeggeri di quel volo hanno raccontato che alla comunicazione del dirottamento del volo su Minsk Protasevich ha cominciato ad agitarsi molto a dire che la ragione dell'operazione era lui e che lo avrebbero ucciso. Se avesse potuto si sarebbe lanciato dall'oblò ha raccontato una persona che era a bordo. Poi ha consegnato il computer e le altre cose alla fidanzata ma come sappiamo una volta a terra è stata fermata anche lei. Resta aperta l'altra questione perché Lukashenko si è buttato in un'operazione così spregiudicata? Allora è un'operazione alla Putin verrebbe da dire in effetti e forse una chiave va proprio cercata nella vicina Russia che ieri si è subito detta indignata dalle reazioni dell'intero occidente sul dirottamento. Lukashenko non è amico dello zar russo all'elezione di nove mesi fa lo accusò anche di avere manovrato l'opposizione ma i ferri corti con l'Europa lo hanno poi convinto a riavvicinarsi al Cremlino ed è precisamente questo che l'Unione Europea non può permettersi ed è il principale elemento su cui conta il babbo come viene chiamato Lukashenko nel suo paese. L'Unione Europea ha già messo sotto sanzioni lo Stato Maggiore bielorusso per ben tre volte colpendo direttamente anche Lukashenko e suo figlio oltre ad altre 86 persone e 7 entità. Ora dovrà decidere come tirare ulteriormente la corda se muoversi per isolare il paese e il suo spazio aereo ma probabilmente dovrà comunque aspettare l'indagine internazionale dell'organizzazione dell'aviazione civile. Ma fino a dove potrà arrivare Lukashenko e con quali risultati ed effetti sulla popolazione? Questo non è chiaro anche perché l'Europa ha sempre detto di non volere far pesare le sanzioni sui bielorussi che sono vittime di Lukashenko. Intanto infatti nel paese la repressione va avanti. Dall'inizio delle proteste sono state arrestate circa 32.000 persone e quattro sono morte in carcere. L'ultimo Witold Achurok coordinatore del Movimento per la Libertà è deceduto sabato scorso e aveva 50 anni. Le proteste nel tempo si sono affievolite intanto. Molti hanno perso fiducia ha detto Protasievich a marzo in un'intervista a Current Time TV di Radio Free Europe. Quando il Movimento ripartirà a proseguito dovrà essere completamente diverso ma io ho fiducia e se il popolo torna a farsi sentire tutto potrebbe davvero finire quest'anno. A meno di colpi di scena però a quell'urlo mancherà proprio la voce di Roman Protasievich che da domenica può solo parlare a se stesso tra le pareti di un carcere bielorusso. Grazie Simone Sabattini e Leonard Berberi. Noi andiamo avanti con Massimo Gaggi che si trova a Minneapolis dove esattamente un anno fa il poliziotto bianco Derek Chauvin uccise l'afroamericano George Floyd tenendogli bloccato il collo per 9 minuti e 29 secondi mentre lui diceva di non riuscire a respirare. Le immagini di quell'arresto sono state decisive per la condanna di Chauvin avvenuta poco più di un mese fa il 20 aprile ma soprattutto per la diffusione in tutto il mondo di proteste a sostegno di Black Lives Matter il movimento contro le violenze razziste. Massimo che aria si respira? Minneapolis è una città che oggi celebra il primo anniversario della uccisione di George Floyd ma è anche una città che ha vissuto un anno tremendo non solo per le proteste razziali ma anche per l'aumento della violenza della criminalità comune legata probabilmente alle tensioni razziali ma anche a tutto quello che è successo nell'anno della pandemia quindi una città molto spaventata una città nella quale ci sono stati centinaia di incendi di negozi magazzini depositi e tuttora ha delle ferite molto profonde la polizia non va in alcune zone della città dove c'è stata la manifestazione domenica la polizia era totalmente assente il servizio d'ordine veniva garantito da Black Lives Matter e da le milizie paramilitari nere che adesso si stanno formando per confrontarsi con quelle della supremazia bianca e quindi non è una situazione molto tranquilla come ha detto anche il sindaco Frey la città avrebbe bisogno di superare il trauma di George Floyd ora che c'è stata anche la condanna del poliziotto Chauvin che lo uccise e di cercare di tornare alla normalità ma non c'è un'atmosfera di questo tipo ancora e appunto come ha detto lui in modo efficace è una città che vive ancora su una barricata di odio e di paura la condanna di Chauvin quindi non ha del tutto pacificato la situazione no no ha sicuramente influito perché se non fosse stato condannato presumibilmente sarebbero ripresi violenze saccheggi ci sarebbero state reazioni molto brutali questo non c'è stato la città ha un aspetto abbastanza calmo però appunto vedi ancora in molti quartieri ci sono dei negozi distrutti che non sono stati riaperti anche perché le attività economiche ovviamente nell'anno del covid sono diminuite ma anche perché c'è il timore sempre che qualcosa possa tornare ad accadere perché poi come sapete l'11 aprile c'è stato un altro brutto episodio quando è stato ucciso un ragazzo a controllo del traffico ordinario una poliziotta gli ha sparato pensando di usare un teaser e invece gli stava sparando con la pistola d'ordinanza quindi anche questo ovviamente ha eccitato gli animi e poi ci sono ancora episodi di vandalismo per esempio? nel luogo dove è stato ucciso George Floyd che è praticamente un incrocio che è diventato un santuario chiuso al traffico è rinominato ribattezzato George Floyd Square ogni tanto succedono anche lì episodi di vandalismo di gente evidentemente supermeristi bianchi o gente comunque che vuole contestare questo momento di riconoscimento dei torti fatti ai neri che va lì a sfregiare tutte le scritte che sono state messe distruggere i fiori che sono stati gli altarini che sono stati creati in vari punti dell'incrocio dove lui è morto quindi è una situazione ancora molto tesa e quello che mi ha colpito è che alla manifestazione di domenica dove erano presenti tutte le autorità tutti i sindaco governatore dello Stato i senatori dello Stato i parlamentari c'erano sì e no migliaia di persone in un centro della città che per carità la domenica i centri cittadini sono sempre abbastanza vuoti ma in un momento come questo probabilmente ci si aspettava qualcosa di diverso grazie Massimo Gaggi oggi finiamo qui per altri approfondimenti nel sommario di questo episodio potete trovare i link agli articoli di Corriere.it se volete scriverci mandate una mail a corrieredaily chiocciola rcs.it Corriere Daily torna domani Corriere Daily è il podcast quotidiano del Corriere della Sera a cura di Tommaso Pellizzari produzione di Carlo Annese montaggio di Federico Caruso e Giacomo Vaghi iscriviti alla serie nella tua app preferita riceverai ogni mattina la notifica dell'uscita di un nuovo episodio e potrai anche impostare il download automatico